...e 20, quindi sesta edizione di Boltonissima, siamo ancora qui e sempre più agguerriti per darvi un'offerta sicuramente di qualità. Boltonissima al sesto anno, come dicevo prima, quasi 80 spettacoli prodotti, quasi 20.000 persone che sono approdate nel nostro teatro, al Tarentum, dove ovviamente al Tarentum continueremo questa bellissima avventura. Gli spettacoli sono 10, 5 sono di commedia e intone dell'età, 3 musicali, 2 invece, 1 il teatro di Edoardo e poi una chicca di una compagnia partenopea che viene a trovarci per darci ovviamente il loro contributo alla qualità di Boltonissima. Per quanto riguarda le modalità di approccio alla nostra rassegna, sono semplicissime, basta telefonare e prenotare. Noi poi vi facciamo trovare il biglietto verso i nostri punti vendita oppure direttamente la sera dello spettacolo, noi utilizziamo queste modalità. I costi, 10 per la platea e 8 per la galleria, soltanto per la parte teatrale. Per la parte musicale i prezzi sono diversi, leggermente superiori, ma siamo sempre in una spesa che vale la pena fare. Quindi Boltonissima inizia l'11 e 12 gennaio con Luciano Capurro e la compagnia Napoli Incanto, direttamente dal Salone Margherita di Napoli, un varietà eccezionale, venite già a trovare.